Direi che possiamo iniziare e come sempre salutiamo tutti i partecipanti e salutiamo i nostri panellisti. Questa sera, l'evento di questa sera è appunto intitolato Women in Power, non darò nessun dettaglio in anticipo, lascio assolutamente la parola a Evelyn. Prima di tutto però voglio ricordarvi che siamo contenti di ricevere domande durante anche la presentazione di Evelyn, potete utilizzare il bottoncino del Q&A che trovate in basso sul vostro schermo e alla fine della presentazione lasceremo 10-15 minuti per rispondere a tutte le domande. Potete scriverci in italiano, potete scriverci in inglese, vediamo un po'. Per chi non ci dovesse conoscere, ricordo a tutti che siamo Collina Italiana, siamo una scuola di italiano a New York e offriamo lezioni di italiano e eventi in italiano o sulla cultura italiana sia a bambini che ad adulti, sia online che a scuola. E siamo contenti appunto di avere, di aver creato questo piccolo, questa piccola serie di eventi con Evelyn che vado a presentarvi molto brevemente. Ma Evelyn è italiana, ha studiato arte, storia dell'arte all'Università Ca' Foscari di Venezia, ha ricevuto poi, ha ottenuto un dottorato in Italian Renaissance and Baroque Art at Rogers University in New Jersey. E adesso, in questo momento, insegna al Fashion Institute of Technology di New York, dove insegna appunto classi di storia dell'arte e arte rinascimentale, arte barocca e chi più ne ha più ne metta. Siamo appunto contenti di lasciare la parola a Evelyn. Di nuovo, per qualsiasi domanda potete scriverci e alla fine dell'evento rispondiamo a tutti. Grazie mille e buon evento, buona presentazione. Passo la parola a te, Evelyn. Grazie, grazie a tutti i partecipanti, so che è un'ora un po' strana questa. Faccio subito condivisione del mio schermo? Certo. Allora, oddio, aspetta. Share screen, eccolo qua. Ok, lo mettiamo grande. Sta per arrivare. Ok. Ok, adesso si veda. Ecco, adesso sì. Perfetto. Allora, utilizzeremo l'italiano il più possibile. Magari possiamo fare delle piccole precisazioni in inglese. Se ci sono dei passaggi un po' più complicati, potete scriverci nel Q&A e li rivediamo o ci fermiamo un attimino e ne discutiamo insieme. Grazie. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto voglio dirvi l'argomento di stasera è stato difficile da mettere insieme perché c'erano tanti personaggi di cui volevo parlarvi in poco tempo e non volevo tediarvi e tenervi troppo a lungo. Quindi, se siete interessati e se la cosa può essere interessante, potrei fare un'altra seconda parte su altre donne famose. Ho scelto tre oggi di cui parlerò. Senza indugio andiamo subito a conoscerle. Allora, aspetta, scusate, devo spostare perché devo leggere e mi c'è. Ecco, la mia foto proprio dal punto più infelice. Ecco. Penso che il modo migliore per cominciare il nostro discorso stasera sulle donne influenti è guardando questo ritratto e attraverso questa immagine analizzare il ruolo delle donne nel Rinascimento. Nel sito dell'Hermitage Museum, dove quest'opera si trova, il quadro è definito un ritratto di famiglia. Perché effettivamente di tale si tratta? L'immagine funziona come una sorta di fotografia e cattura la fisionomia di una coppia di sposi per le generazioni future. Questa era un po' la funzione dei ritratti come delineata dai teorici del Rinascimento, primo tra tutti Leon Battista Alberti. E qui vi ho messo la citazione sia in italiano che in inglese. Tiene in sé la pittura forza divina, non solo quanto si dice dell'amicizia, quale fa gli uomini assenti essere presenti, ma più i morti dopo molti secoli essere quasi vivi. Tale che con molta ammirazione dell'artefice e con molta volutà si riconoscono. Rimane curioso il fatto che nonostante questa funzione di memoria, molti dei ritratti che ci sono giunti dal Rinascimento rimangono purtroppo anonimi. E anche nel caso di questo splendido ritratto dell'artista veneziano Lorenzo Lotto, gli studiosi non sono unanimi nel stabilire l'identità di queste persone. Sappiamo per certo che si tratta di una coppia di Bergamo, immortalata dal pittore all'epoca del suo soggiorno in quella città tra il 1523 e il 1524. Però quello che a noi interessa questa sera non è il tanto il nome o l'identità delle tue figure, ma piuttosto come sono rappresentate. La cosa che secondo me colpisce di più di questa immagine è probabilmente la ricchezza che traspare dagli abiti e dall'ambiente che circonda la coppia. Lotto raffigura con estrema cura il copricapo ai gioielli della donna, la camicia ricamata, le ampie maniche del costume dell'uomo di velluto nero e il prezioso tappeto orientale rappresentato in primo piano a coprire il tavolo dove le figure siedono. Tutti elementi che sono enfatizzati per sottolineare lo stato e la ricchezza di questa coppia. La nostra attenzione poi si sposta all'atteggiamento delle due figure e ai dettagli sullo sfondo. La finestra aperta o quella specie di veranda che si vede col balcone, la finestra aperta sullo sfondo dell'uomo e la tenda verde che sono stati studiati dall'artista per stabilire i diversi ruoli di uomo e donna. Osserviamoli insieme. L'uomo, come vedete, è seduto verso l'esterno della stanza e tiene con la mano sinistra un foglio che mostra all'osservatore con un'iscrizione in latino che recita l'uomo giammai, man never, mentre con la destra indica uno scoiattolo appollaiato sul tavolo che dorme. Nella cultura medievale e rinascimentale, che si basa ovviamente su quell'antica, lo scoiattolo è simbolo di prudenza, visto che l'animale raccoglie provviste per l'inverno, però è anche simbolo di lungimiranza o foresight, perché anticipa la venuta di eventi soprattutto funesti, come in questo caso la tempesta che sembra avvicinarsi sullo sfondo che si intravede da quel balcone, da quella finestra. Per questo l'animale si protegge stando all'interno, nel dipinto di lotto, mentre l'uomo, dall'aspetto fiero, indica lo scoiattolo sottolineando che non seguirà il suo esempio, ma affronterà le tempeste della vita per il bene della sua famiglia. Ecco spiegato il suo ruolo più attivo, più allerto, la sua posizione verso il mondo esterno, che è dominio dell'uomo, delle sue azioni, del suo business. La donna, dal canto suo, è confinata verso l'interno della stanza, si appoggia al marito con la destra e con la sinistra tiene in braccio un cagnolino, simbolo di fedeltà coniugale. A lei pertiene il governo della casa, la continuità della prole, la reputazione della famiglia. Proprio come il bel tappeto in bella vista, i gioielli che sfoggia o il drappo elegante che le incornicia il volto, la donna moglie è un altro possedimento del marito. Anche se nate da famiglie influenti, le donne non ricevevano la stessa educazione dei loro fratelli maschi, perché non erano destinate alla carriera politica, al business o altre professioni importanti. Venivano educate per diventare mogli e madri. L'eredità veniva devisa tra i discendenti maschi. Le femmine ricevevano una dote che non potevano nemmeno gestire. Queste somme, spesso ingenti, venivano date al marito e se questo moriva finivano con l'essere manipolate dai fratelli o dagli zii oppure dai figli maschi. La vita stessa della donna veniva decisa da queste figure maschili che stabilivano se essa dovesse sposarsi o entrare in convento. Praticamente le donne erano come dei beni che venivano passati dai padri ai mariti o ai fratelli e che spesso finivano nella cura dei figli maschi. È sorprendente pensare quindi che in questa società così rigida e impatriarcale alcune donne siano riuscite comunque a diventare influenti. Come impareremo oggi, queste donne sono riuscite a distinguersi attraverso il potere della loro bellezza e intelligenza, ai loro talenti, al loro gusto e al patrocinio delle arti e anche attraverso la loro sensualità. Si trattava comunque di eccezioni alla regola. La prima donna di cui parliamo oggi è Ginevra de Benci, figlia di un illustre banchiere di Firenze vicino alla potente famiglia dei Medici. Ma non è per questo che Ginevra divenne famosa. Lui è oggi più che altro perché è stata dipinta dal grande Leonardo da Vinci in uno dei suoi primi capolavori. Questo è il primo ritratto dell'artista che conosciamo. All'epoca Leonardo era ancora nello studio di Andrea del Verrocchio e a compiere il suo apprendistato ed aveva tratto ispirazione proprio dal suo maestro per catturare l'immagine di Ginevra. Il dipinto, che originariamente includeva le mani della figura, come da questa ricostruzione sulla destra, rappresenta un po' la versione dipinta del busto del Verrocchio, noto come donna col bouquet di primule, che si dice celasse le fattezze, la fisionomia, dell'amante di Lorenzo il Magnifico, Lucrezia Donati. Certo è che l'immagine creata da Leonardo lasciò a bocca aperta i contemporanei per la sua vivacità e immediatezza. I fiorentini, infatti, erano abituati a vedere ritratti femminili come quello di Piero del Pollaiolo, dove la donna, come vedete, era figurata in rigido profilo, appena sotto il busto. Leonardo, invece, ruota la sua modella di tre quarti verso l'osservatore e le chiede di guardarlo dritto negli occhi. Tra l'altro un atteggiamento considerato inappropriato per le dame dell'epoca. e include la mezza figura della donna nella sua tavola, infondendole quindi una vitalità del tutto nuova. Quello di Leonardo, quindi, si trasforma, secondo me, da un ritratto di status, come quello che abbiamo visto prima, ad un ritratto psicologico che ci lascia intravedere la personalità della figura. Ma quindi, chi era davvero questa donna che osa sostenere lo sguardo dell'osservatore e chi, soprattutto, domanda più interessante, ha commissionato il suo ritratto a Leonardo? Oh, scusate, ho sbagliato. Come per tutte le opere di Leonardo, un velo di mistero circonda questo dipinto. Quasi tutti i dipinti di Leonardo hanno qualcosa di misterioso. Una delle ipotesi più ovvie è che il quadro fosse stato commissionato in occasione del matrimonio della fanciulla sedicenne con Luigi Niccolini nel 1474. Il matrimonio era l'evento più importante nella vita di una donna all'epoca. Questi legami matrimoniali non erano certo dettati da motivazioni amorose, ma erano visti più come contratti commerciali tra famiglie influenti, che così stabilivano delle alleanze importanti. Responsabile del contratto di matrimonio per Ginevra fu il fratello Giovanni, definito come suo tutor dopo la morte del padre e Giovanni era anche un caro amico di Leonardo da Vinci. Potrebbe quindi essere stato il fratello a chiedere all'artista di immortalare la giovane sposa. Però questa ipotesi cade quando si confronta il dipinto di nuovo con l'immagine del Pollaiolo. Evidentemente questo sì, un ritratto matrimoniale. Mentre l'anonima sposa del Pollaiolo è agghindata con i suoi abiti migliori, gioielli e sfoggia una complessa acconciatura, Ginevra colpisce per la sua assoluta semplicità, sobrietà e l'estremo pallore. Leonardo, invece di concentrarsi sullo status della sua figura, si addentra nella definizione del paesaggio circostante, che, come nella Mona Lisa, diventa un tutt'uno con la figura femminile, quasi ad evocare il legame tra la natura e la donna. Impressionante è la cura posta da Leonardo nella descrizione del cespuglio di Ginepro, che circonda la figura di Ginevra come un'aura e che è un'evidente allusione al suo nome. Ginepro suona molto come Ginevra, quindi era un pan. Leonardo amava usare questi giochi di parole. La pianta è anche simbolo della virtù e purezza di Ginevra, che vengono enfatizzate anche nell'allegoria rappresentata nella parte posteriore del dipinto, perché il dipinto è dipinto su tutte e due le parti. Diversamente, infatti, dalla maggior parte dei ritratti che sono sopravvissuti, questo dipinto del Leonardo ha infatti due lati completamente decorati, secondo un'usanza comune soprattutto nella pittura nordica, quando mi riferisco alla pittura nordica, mi riferisco alla pittura del nord Europa all'epoca, soprattutto con la fiamminga. Questo significa che l'immagine non era probabilmente destinata ad essere appesa ad una parete, invece era probabilmente contenuta in una scatola intagliata o decorata o un astuccio di cuoio, come un gioiello prezioso. Questa consuetudine di accompagnare l'effigie di una persona con una rappresentazione allegorica ricorda la struttura delle monete antiche. Ah, scusate, avevo messo questo per farvi vedere un'idea di come poteva essere la scatola che conteneva il ritratto. Questo è uno dei pochi ritratti che ancora ha la sua coperta, si chiamano queste sliding panels, sliding paintings. Questa consuetudine di accompagnare l'effigie di una persona... Magari, scusa Evelyn se ti interrompo, magari vuoi ripetere questo passaggio del quadro che ha due lati e le due varie opzioni di come poteva essere utilizzato in inglese al volo. Così vediamo l'immagine. Va bene. So, Ginevra's Debanshee portrait is painted on both sides and that make us think, induce us to think that originally was meant to be contained in a little structure like this one. Either there was a frame with a sliding panel in the front so it was closed or it was contained in a... Sometimes they are like wooden boxes or velvet bags. We know this from inventories. Not many of these kind of like objects survives in their complete status but we know from descriptions in the list of possessions of people. How they could have been like a store and put together in a sense. Grazie. Allora, stavo dicendo che questa consuetudine di avere i due lati, no? La figura da una parte e l'immagine allegorica dall'altra ricorda un po' le monete antiche e le medaglie rinascimentali dove molto spesso il ritratto di una figura illustre veniva abbinato ad un'immagine che si riferiva alle sue virtù ed ambizioni. Lo stesso avviene quindi per Ginevra. Il verso del suo ritratto è in grado di svelare qualcosa di più di questa enigmatica donna e ci può dare anche qualche indizio sul committente del dipinto. Su uno sfondo di finto marmo come vedete c'è questo questo colore strano è un finto marmo Leonardo intrecce i rami di tre piante quella al centro è il ginepro di Ginevra che è incorniciata dall'alloro a sinistra simbolo delle virtù intellettuali e dalla palma a destra simbolo delle virtù morali. Le tre piante sono unite da un nastro con un motto il motto in latino legge la bellezza adorna la virtù e sono tutte e tre piante come avete notato sempre verdi quindi simbolo di eternità proprio come il marmo sullo sfondo che imita il porfido il porfido era un materiale molto raro e durevole che veniva usato nell'antichità soprattutto per le tombe imperiali l'alloro e la palma sono stati riconosciuti come emblemi personali di una figura molto vicina a Ginevra l'ambasciatore veneziano Pietro Bembo Bernardo Bembo scusate mi confondo sempre col figlio l'ambasciatore veneziano costui era stato a Firenze in missione diplomatica ben due volte nel 1475-76 proprio al ridosso del matrimonio di Ginevra e nel 1478-80 dove pare fosse stato immediatamente catturato dalla bellezza, virtù e doti intellettuali di Ginevra apparentemente la giovane donna era una dotta e talentuosa poetessa tra i due era nato un così forte legame platonico che apparentemente era sulla bocca di tutti e che venne celebrato dai versi di intellettuali legati alla cerchia dei medici qui c'è una bellissima poesia di uno di questi ce ne sono parecchie di poesie interessante che la legame e l'infatuazione tra questi due fosse diventata il dominio pubblico e tutti scrivevano su di loro questa si riferisce questa poesia si riferisce al momento in cui Bernardo se ne sta andando e Ginevra ha il cuore a pezzi perché il suo amante se ne va may Ginevra shed tears as you go Bembo might she desire long delays and beseech the gods above that every difficulty might hinder your journey and might she wish that kindly stars with adverse winds and heavy storms prevent your departure purtroppo dei componimenti di Ginevra questa grande poetessa descritta da tutti rimane solo un verso e non ridete perché questo è il destino delle donne artiste e questo verso è molto bello vi chiedo perdono io sono una una tigre di montagna ci dice Ginevra secondo me però questo verso basta da solo a commentare l'immagine di Leonardo che Leonardo è riuscito a catturare il trattenuto tormento dietro la pacchezza di questa figura di Ginevra il suo spirito fiero e passionale dietro lo sguardo fermo forse Leonardo non ha voluto immortalare semplicemente una donna maritata ma un individuo fiero forse anche un po' ribelle se crediamo come qualcuno ha suggerito che Ginevra quando era ancora sposata si fosse ritirata in un convento come terziaria per perseguire così liberalmente la propria passione letteraria fatemi spiegare cos'hanno le terziari forse anche in inglese vorrei spiegarlo le terziari erano membre di ordini religiosi che potevano vivere in convento senza prendere formalmente i voti di solito diventavano terziari e le vedove perché una donna sola non era appropriato che vivesse in casa e quindi finiva in convento so terziari were kind of like lay nuns in a sense they were people who were allowed to be part of a religious order without officially taking the vows so they could go and live in a convent and leave that segregate and it's funny because these women sometimes have freedom to pursue their literary goals or their artistic talents within the walls of convent grazie a questo suo ruolo questa studiosa che ha proposto questa ipotesi alluderebbe sarebbe un'allusione a questo ruolo di terziare questo scialle nero che ha un po' sconvolto gli studiosi che pensavano che lei fosse morta o che rappresentasse la morte di qualcuno invece è uno scapolare probabilmente che praticamente è un piccolo mantello che queste terziare usavano indossare e poi c'è qualcuno che ha letto anche vedete in lontananza sulla destra c'è quel convento un riferimento a un edificio religioso e qualcuno ha proposto che si trattasse del convento delle murate della Santissima annunziata che era dove la giovane Ginevra aveva studiato da piccola come ducanda come border e dove si era ritirata quando era ancora sposata la domanda è ma come aveva potuto nessuno sarebbe mai fatta questa domanda ma sono fatta l'altro giorno come aveva potuto Ginevra liberarsi dal gioco matrimoniale ritirarsi in convento prima di diventare vedova perché il marito c'era ancora quello vivo quindi secondo le testimonianze la fanciulla non era riuscita a concepire era fallita come donna il marito non l'aveva ripudiata però questa povera donna che non aveva avuto nessun figlio stava sempre male dopo sei anni il marito in un catasto in una o non mi ricordo un documento delle tasse comunque aveva detto che questa moglie era sempre malata e gli era costata un sacco di soldi quindi probabilmente l'aveva mandata in convento così non la doveva più sostenere rimane da stabilire prima che passiamo al prossimo personaggio chi possa aver voluto commissionare questo ritratto di Ginevra e ad oggi sembra che il candidato più probabile sia proprio Bernardo Bembo quel signore che vi ho fatto vedere prima raggi infrarossi hanno rivelato che un tempo nel retro del dipinto nella parte posteriore ci fosse anche il motto del famoso veneziano che era virtù ed onore subito sotto quello di Ginevra inoltre c'è il bellissimo passaggio di una lettera indirizzata a lui e a Lorenzo il Magnifico da Marsiglio Ficino che era un noto studioso e filosofo sempre della cerchia dei medici che getta luce sul motivo per cui Bernardo volesse un'immagine della sua amata Ginevra questo passaggio è fondamentale per riuscire a capire un po' la cultura dell'epoca la funzione delle immagini e la funzione quasi filosofica che queste immagini avevano leggiamole insieme io vi ho messo la traduzione anche in inglese perché non si può dire quanto più facilmente e con più forza la bellezza stessa che le parole non fanno all'amar provochi e inciti sia dunque la maravigliosa figura della virtù davanti agli uomini dimetterò non più delle mie persuasioni sarà di bisogno perché la medesima con più prestezza che pensare non si può ci persuaderà perché il corpo altro non è che l'ombra dell'anima e così la forma del corpo meglio che può la forma dell'anima rappresenta questa ultima frase proprio sembra una spiegazione del moto di Ginevra ecco quindi spiegata la funzione di immagini di donne e belle e virtuose come quella della nostra Ginevra non è semplicemente un ricordo della persona amata ma un importante strumento di edificazione grazie a Leonardo Ginevra viene trasfigurata nella sfera di una divinità sempre eterna e diventa incarnazione della bellezza della virtù e della purezza ideale secondo la filosofia neoplatonica che era la filosofia più comune all'epoca e tutte queste idee sono ispirate alla filosofia neoplatonica attraverso la contemplazione delle immagini di Ginevra e il suo amore puro verso di essa Bernardo poteva ispirare a elevarsi al suo stato quindi avere le immagini di belle donne davanti agli occhi belle donne in cui la bellezza era un riflesso della virtù e della purezza del loro del loro spirito aveva un valore edificante che poteva migliorare come persona ok per questo molto spesso ci sono copie di dipinti di donne che erano possedute da diverse persone non perché queste fossero conosciute direttamente il nostro secondo personaggio è un bel po' diverso Isabella d'Este una donna ancora più famosa l'avete sicuramente probabilmente sentita nominare passata alla storia come una grande benefatrice delle arti Isabella divenne la marchesa di Mantova nel 1490 a soli 16 anni quando sposò il marchese Francesco II Gonzaga a cui era stata promessa in sposa quando aveva 6 anni e lui ne aveva 14 ecco tanto per parlare di matrimoni combinati iniziamolo molto presto era molto comune nel rinascimento che i matrimoni venissero organizzati a tavolino dalle famiglie soprattutto quando si trattava di famiglie di casati influenti come i Deste di Ferrara che erano la famiglia di Isabella e i Gonzaga di Mantova che erano la famiglia di Francesco queste due famiglie avevano creato nella loro città delle sorte di principati con corti sfarzose che gareggiavano nel sostenere le arti come strumento di propaganda politica Isabella era stata cresciuta e distruita con lo scopo precipuo di diventare la moglie di un marchese aveva ricevuto un'ottima educazione ovviamente specificatamente adatta ad una donna di prestigio sapeva il latino e il greco anche se lei si lamenta che non le sapeva bene cantava e suonava il liuto e a volte componeva anche versi amorosi quindi anche lei scriveva poesie ma forse il suo talento più grande era la capacità di autopromozione che seppe gestire con una sagagità impressionante attraverso contatti e corrispondenze ma anche attraverso il collezionismo e la commissione di opere d'arte e aggiungo anche attraverso la moda perché questa donna era ossessionata con l'avere gli oggetti più in moda che fossero più fashionable del momento tra l'altro sopravvivono di lei 12.000 lettere in archivio per farvi capire quanto questa donna ci tenesse a self-promotion ok talmente tanto lavorò Isabella per costruirsi una sua immagine che anche oggi a distanza di tempo viene ricordata come la prima donna del rinascimento Isabella era intelligente sicura di sé ed astuta ma sfortunatamente non particolarmente attraente e sapeva che questo poteva essere un problema come abbiamo visto prima in connessione con il ritratto di Genitra l'idea comune nel rinascimento è che le donne virtuose dovevano essere per forza anche belle perché la bellezza esteriore era letta come un riflesso della bellezza interiore Baldassare Castiglione nel suo libro del cortigiano un libro molto divertente un manuale vero e proprio di comportamento dice appunto e lo dico in inglese woman lacks much who lacks beauty che la donna a cui manca la bellezza mi manca tutto praticamente inoltre essendo una donna famosa Isabella era consapevole di quanto importante fosse la circolazione della sua immagine e di fatto molti ritratti della Marchesa venivano commissionati come doni questo spiega perché Isabella fosse ossessionata e lo dico con la propria immagine come deduciamo dai documenti e lettere che sopravvivono in connessione con i suoi ritratti nel 1493 quando Isabella era da poco arrivata a Mantova aveva chiesto all'artista di corte Andrea Mantegna di farle un ritratto che l'aveva promesso in dono alla contessa di Iacerra in cambio di un ritratto di quest'ultima per fargli capire che i ritratti venivano così scambiati come doni che è una cosa interessante a quanto pare Mantegna aveva fallito nell'impresa come scrive lei stessa all'amica e adesso lo giociamo insieme lo leggo in italiano poi ve lo potete leggere in inglese ovviamente donne sommamente che non li potiamo mandare al presente il nostro retratto perché il pittore ne ha tanto mal fatta che non ho alcuna delle nostre simiglie avemo mandato per uno forestere quale ha fama da contraffare bene il naturale fatto che il sarà lo manderemo subito a vostra signoria quale non si scorderà in questo meso che siamo tutta sua penso che queste parole secondo me potete già capire lo spirito di questa donna Mantegna purtroppo non aveva fatto un bel lavoro perché l'aveva fatta troppo vera e lei non voleva un ritratto vero lei voleva un ritratto ideale e quindi infatti qui vi faccio vedere il ritratto che lei era molto piaciuto fatto lì da un altro artista Lorenzo Costa non siamo neanche sicuri che sia proprio lei perché talmente le fattezze sono diverse da quelle lei comunque comunque tutti i ritratti vi mostrerò di Isabella sono uno diverso dall'altro perché la la funzione di questi ritratti era propaganda non era veramente rappresentare qualcuno come una fotografia la cosa simpatica di questo scambio letterario è che lei parla di un ritratto che darà un forestiere il forestiere è Santi il padre di Raffaello e né il ritratto di questo Santi né il ritratto di Mantegna sopravvivono quindi noi abbiamo un sacco di testimonianze scritte di ritratti di Isabella che non ci sopravvivono ma con le sue stesse parole possiamo ricostruire la vicenda grazie Evelyn vuoi ripetere questa curiosità del fatto che i suoi ritratti sono tutti diversi l'uno dall'altro in inglese velocemente certo è molto importante so as you will see while I'm talking about Isabella Deste so Isabella Deste was not looking for a real portrait of herself she couldn't care less so she knew that she wasn't attracted and she knew exactly how she wanted to be represented so many times she was unsatisfied about her images or she would complain about them in her writing and it's funny that all these complaints survive but her portrait they don't sometimes so we have all these kind of like anecdotes and that we use to read what survives of her image and also to understand the function of this portrait because we always think they're real like photographic a reproduction of somebody's physiognomy but they're not they're meant to be idealizations all the time most of the times let's say è molto interessante quindi la caccia ritratto perfetto da parte di Isabella ci porta due immagini della Marchesa che vorrei analizzare con voi oggi ne ho scelte solo due anche se ce ne sono molte la prima si tratta di un disegno di Leonardo ho trovato curioso tra l'altro che delle due donne che ho scelto erano tutte e due rappresentate da Leonardo uno schizzo fatto in preparazione per un ritratto che l'artista aveva promesso ad Isabella la storia è molto simpatica la Marchesa aveva incontrato il celebre pittore a Milano dove regnava la sorella minore di Isabella Beatrice moglie del duca Ludovico il Moro dal 1491 quindi le due sorelle sono sposate a un anno di distanza con due personalità molto importanti proprio a corte Isabella aveva avuto modo di vedere il ritratto che Leonardo aveva fatto all'amante del marito della sorella non so se mi seguite quindi non la sorella ma l'amante Cecilia Gallerani sono sicura che questo dipinto l'avete visto che ad oggi rimane uno dei più bei dipinti in assoluto secondo me di Leonardo si narra che la passione del Moro per questa donna fosse tale da fargli posticipare il matrimonio per ben due volte alla fine però il duca fu costretto ad accasare cioè a far sposare la sua amante e a cacciarla da corte perché la moglie non la sopportava più per farvi capire che neppure le persone potenti come il duca di Milano poteva scegliere chi voleva sposarsi il matrimonio era proprio un contratto quando la caccia da corte però le lascia questo ritratto che sembra sia stato commissionato proprio per lei Isabella dal canto suo da conoscitrice d'arte che era doveva essere rimasta colpita dalla capacità del pittore non solo di catturare la bellezza e purezza di questa donna ma anche i moti della sua anima la sua totale fedeltà al duca del quale porta in grembo il suo simbolo quell'animale che la donna porta in braccio è un ermellino è un simbolo della purezza della donna ma è anche un simbolo del duca di Milano perché lui apparteneva all'ordine dell'ermellino era un ordine prestigioso onorifico che gli era stato dato dal sovrano di Napoli subito dopo quindi la morte della sorella e ascoltate bene Isabella aspetta che la sorella muoia per fare questo quindi nel 1498 sta povera sorella muore a 22 anni Isabella scrisse subito a Cecilia Gallerani con una scusa per farsi prestare il ritratto e poterlo studiare da vicino non vi riporto la lettera ma nella lettera che è molto divertente le dice oh sono qui con due ritratti di Giovanni Bellini mi è venuto in mente il tuo bellissimo ritratto di Leonardo e mi piacerebbe molto averlo per fare un confronto è in questo momento che la Marchesa decise di farsi ritrarre da Leonardo e la perfetta occasione arrivò alla fine dell'anno seguente nel 1499 quando Leonardo era in fuga dai francesi che avevano espugnato Milano e cercò proprio rifugio nella corte di Gonzaga dove regnava la Marchesa Isabella d'Este l'artista si trattenne a Mantua fino all'anno seguente ed eseguì due schizzi uno che rimase nelle mani della Marchese e uno che portò con sé a Venezia con la promessa di colorirlo mentre il primo venne donato ad un ignoto destinatario del marito e possiamo immaginare che Isabella fosse furiosa il secondo è oggi conservato al Louvre ed è quello che vi ho fatto vedere prima in questo ritratto Leonardo ha deciso di rappresentare la sua figura di profilo forse per darle importanza e dignità visto che così venivano rappresentate le persone al potere nel primo quattrocento seguendo la consuetudine degli effigi degli imperatori romani nelle medaglie per nascondere le forme piene della Marchesa l'artista ha poi accentuato le maniche a sbuffo dell'abito che è definito con grande attenzione visto l'interesse che Isabella come vi ho detto prima aveva per la moda il disegno che è stato tagliato originariamente includeva entrambe le mani e quella visibile puntava ad un libro come riferimento all'erudizione della modella che aveva una libreria straordinaria da quello che possiamo capire dalla corrispondenza di Isabella perché c'è una lunga corrispondenza riguardo a questo ritratto anche la Marchesa era rimasta molto soddisfatta dal ritratto di Leonardo e tanto desiderava averne uno come dice lei a colori ma le trattative non andarono a buon fine non solo Leonardo sembra non avere mai completato e inviato un ritratto ad Isabella anche se evidentemente ne aveva intenzione perché questo foglio del Louvre è stato punteggiato nei contorni per essere trasferito in una pala o in una tela ma nemmeno concesse mai alla Marchesa nessun altro dipinto anche se lei alla fine un po' esasperata aveva rinunciato al suo ritratto e aveva scritto all'artista che le sarebbe bastato avere anche una piccola Madonna un Cristo cioè praticamente aveva supplicato Leonardo di darle qualunque cosa di sua mano le motivazioni che spinsero Leonardo ad abbandonare il progetto rimangono misteriose forse non era soddisfatto del modello che aveva creato sappiamo che Leonardo non era mai soddisfatto dei suoi lavori lasciava sempre a metà incompleti o forse nel caso di Isabella non voleva accedere ad una committente così insistente la Marchesa quindi rimane a mani vuoti si fa per dire visto la quantità di ritratti che circolavano di lei quello che rimase tra i suoi favoriti è questa medaglia creata da Giovanni Cristoforo Romano a cui forse si era ispirato anche lo stesso Leonardo per il suo disegno Isabella aveva conosciuto questo scultore alla corte della sorella Milano dopo la morte di questa Romano si era trasferito alla corte dei Gonzaga dove rimase fino al 1505 prima di spostarsi a Roma e durante questo soggiorno aveva fatto vari lavori per Isabella il marito tra cui questa famosissima medaglia state guardando oggi a un capolavoro di orificeria ma anche l'unica medaglia d'oro quattrocentesca che sopravvive compare tra gli oggetti custoditi nella grotta di Isabella nella corte vecchia del palazzo ducale di Mantova questo ambiente insieme allo studiolo che la Marchesa aveva fatto decorare da artisti illustri è il posto dove venivano conservati i pezzi più preziosi della sua collezione che comprendevano sculture antiche e moderne come piccoli bronzi ma anche libri e manoscritti e gioielli e varie altre cose che ovviamente purtroppo sono andate sperduti dopo dopo la morte del casato funziona sempre così nel rinascimento la medaglia d'oro come vedete è decorata con smalti ed ha il nome di Isabella scritto in diamanti non so se vedete era probabilmente stata concepita per essere indossata visto che come vedete ha un piccolo anello in cima oggetti come questi erano frutto del dialogo tra il committente l'artista e l'umanista l'umanista era la persona responsabile per la creazione dell'immagine allegorica e del motto in questo caso fu il nobiluomo e umanista Niccolò da Correggio a proporre a Isabella ben tre motti per la sua metallia ma alla fine la Marchesa sceglie quello che vi ho messo in alto a destra per il merito personale l'immagine che accompagna il motto è una vittoria alata con uno scettro nella mano destra e un ramo di palma nella sinistra di fronte alla quale si erge un serpente mentre il segno del sagittario ascendente di Isabella vola sopra di lei probabilmente il motto andava riferito alla persona che otteneva la medaglia in dono che era in un certo senso vincitore perché si era guadagnato la stima di Isabella infatti medaglie come questa in bronzo vi ricordo che questa è la medaglia personale di Isabella quelle che lei dava agli altri erano in bronzo ma in oro venivano distribuite molto generosamente praticamente erano un segno di prestigio di favore di legami speciali e spesso erano oggetto di componimenti poetici ci sono anche delle poesie che sono state scritte su questa medaglia di Isabella soffermiamoci un attimo a vedere l'immagine di Isabella è facile immaginare perché la Marchesa amasse tanto questa medaglia nonostante nel suo profilo sia visibile un po' di doppiomento perché lei si lamenta sempre del suo doppiomento nelle lettere la figura emana un sapore anticheggiante col naso aquilino e la voluminosa conciatura l'antica l'unione delle figie dell'immagine e delle sofisticata allegoria sul retro inoltre erano un richiamo evidente allo spirito intelligenza e bellezza interiore di Isabella prima di concludere oggi vorrei brevemente raccontare la storia di un'altra donna sagace che sepe usare l'arte per costruire un'immagine di sé molto lontana dalla realtà si tratta di una veneziana questa volta la veneziana Bianca Cappello una nobile ribelle che era scappata dalla famiglia si era sposata con chi voleva con un giovane fiorentino a Firenze fatemi dire una cosa di solito quando succedevano queste cose le donne finivano sempre male nel senso che venivano abbandonate da questo marito che saranno scelte e finivano per diventare prostitute o cortigiane questa è un'altra categoria di donne famose di cui si potrebbe parlare a Firenze questa donna aveva cominciato una relazione adulterina con Francesco De Medici che non era nient'altro che il granduca di Toscana cioè la personalità più importante della Toscana i due furono amanti per 14 anni prima che la moglie ufficiale di Francesco morisse e finalmente si potesse sposare con la dorata bianca l'astuta veneziana non era solo riuscita ad aggraziarsi un uomo potente ma era pure riuscita a cambiare il suo stato di amante da amante a moglie legittima che praticamente non succedeva mai non solo moglie legittima ma divenne granduchessa di Toscana e questo fu sicuramente grazie al suo fascino e alla sua intelligenza ma i fiorentini non le perdonarono il passato scabroso e la granduchessa veneziana non fu mai veramente ben vista a Firenze nonostante i continui sforzi di nobilitare il suo nome e la sua immagine attraverso le arti seguendo il modello il modello dei sovrani veri e propri aveva questa corte strepitosa dove aveva i musicisti più famosi commissionava poesia anche lei era molto colta era grande nelle conversazioni nell'inventario dei beni eredati alla morte del figlio scusate ebbe più fortuna però quindi a Firenze non era molto famosa ma ebbe più fortuna certamente nelle corti europee come dimostra il fatto che molti degli oggetti che decoravano le sue stanze erano doni che aveva ricevuto da influenti persone personaggi politici e religiosi lo sappiamo perché abbiamo l'inventario dei beni redatto alla morte del figlio Antonio dove ci sono tra l'altro almeno dieci ritratti di Bianca elencati tra cui quello che vi sto mostrando stasera questo piccolo ritratto rientra perfettamente nella categoria di immagini che abbiamo analizzato finora è un dipinto su rame ed è decorato su entrambi i lati di nuovo con l'effigiene di Bianca sul recto si dice e un'immagine allegorica sul verso sembra che il ritratto fosse inserito in una cornice a scatola proprio come quella che vi ho fatto vedere prima e fosse usato come una sorta di coperchio con la parte interna protetta da sguardi indiscreti il ritratto fu probabilmente commissionato come un dono a Bianca dallo stesso Francesco quando era ancora sposato ma lei era diventata vedova una condizione che rendeva la loro relazione più facile questa fu probabilmente la prima volta che Bianca posò per Alessandro Allori un famoso pittore fiorentino da quel momento in poi i due cementarono una relazione professionale molto solida lei diventa addirittura la madrina del pittore e il pittore rappresenta lei il figlio molte volte è evidente in questo dipinto come Bianca fosse nel fiore della sua giovinezza molta attenzione viene data allo status della donna come notiamo dalla cura con cui Allori descrive non so se vedete la bellissima acconciatura il diadema e l'abito da notare la profusione di perle simbolo di ricchezza ma anche di venere e se guardate in alto in cima c'è proprio un ciondolo un pendente con l'immagine di venere cupido molto elegante poi la veste di broccato con fili d'oro ed argento sopra a una delicata camicia bianca di lino però quello che colpisce di più di lei sono la fronte alta che all'epoca era simbolo di intelligenza e le donne si rasavano i capelli per avere la fronte più alta era una cosa della moda dell'epoca e l'altra cosa secondo me che veramente attrae la sua l'attenzione sono i capelli biondo rame che erano il vanto delle veneziane allora c'è tutta una serie di ricette che le veneziane usavano per avere i capelli sbiancati biondi però si dice che bianca cappello avesse i capelli biondo rame naturali sul retro del ritratto vediamo questa bellissima immagine che deriva da un celebre disegno di Michelangelo noto come sogno della vita umana questa immagine è comunemente interpretata come un risveglio dal peccato essendo l'angelo in volo letteralmente intento a svegliare un giovane mentre le scene dei sette peccati capitali come vedete si snodano tutte sullo sfondo considerata la relazione adulterina tra i due non sembra proprio che la scelta di questo soggetto fosse proprio appropriata la spiegazione più plausibile è che a Lori se si confronta il dipinto di a Lori con il disegno originale di Michelangelo ci sono delle cambiamenti quindi l'ha fatto un po' meno diciamo un po' meno forte a riferimento a tutti questi peccati così da far leggere l'immagine più come un'immagine del potere purificante dell'amore in senso neoplatonico di nuovo quindi l'immagine dell'amore di Bianca che veramente risveglia Francesco ad una vita migliore ma come finisce e poi concludo perché sono già stata troppo prolissa ma come finisce la storia di Bianca perché queste storie sono sempre interessantissime ovviamente finisce tragicamente come potete immaginare come tutte le storie d'amore più romantiche Bianca e Francesco muoiono misteriosamente a distanza di un giorno uno dall'altro nella loro villa di Poggio a Cayano nel 1587 ricerche recenti che mi sono andata a scovare sembrano confermare un pettegolezzo perché subito dopo che questi morirono venne subito accusato c'erano dei rumors che era stato il fratello Ferdinando a volerli morti perché il fratello Ferdinando era scandalizzato dalla relazione con questa donna del fratello la odiava la voleva eliminare e poi ovviamente voleva lui diventare granduca di Toscana tra l'altro Ferdinando fu l'unico a non partecipare alle nozze di Bianca e il marito e quindi tutto fa brodo tutto fa pensare che fosse stato lui tra l'altro le ricerche che ho trovato hanno queste persone hanno riesumato i corpi hanno ritrovato il corpo di Bianca che era stato buttato via praticamente il corpo di Francesco ovviamente è seppellito come si deve nella cappella medicea a Firenze lei invece era stata proprio buttata così l'hanno ritrovata hanno scoperto che effettivamente tutti e due sono stati avvelenati quindi ecco la storia non solo ma dopo la morte della povera Bianca Ferdinando si impegnò in una vera e propria dannazio memorie la dannazio memorie si veniva praticata fin dall'antichità quando uno voleva liberarsi della memoria di qualcuno distruggeva tutte le immagini di quella persona e all'epoca dove non c'era intra non c'era niente che sopravviveva ovviamente quello aveva peso la gente veniva dimenticata quindi cosa fa questo distrugge non solo le immagini che le aveva disperde la collezione di lei distrugge gli emblemi rimane un piccolo emblema di lei nel palazzo dove abitava un altro piccolo emblema in un anello che gli aveva regalato francesco pochissime cose questo ritratto e anche questo ritratto di alessandro allori che decorava un tempo era stato commissionato a decorare la galleria aurea dei ritratti dei medici degli uffizi ogni componente della famiglia dei medici era riceveva un ritratto ufficiale che veniva messo agli uffizi che all'epoca era la residenza dei medici del granduca di toscana ed era anche la sede delle attività governative quindi era un posto di rappresentanza importante per quello c'erano i ritratti che rappresentavano la genealogia della famiglia beh appena lei è morta questo Ferdinando ha preso sto dipinto lo ha tolto dalle pareti e ha messo il dipinto che era stato fatto del fratello con la moglie la prima moglie che era morta praticamente secondo me per concludere io penso che la fatica con cui questo uomo si è messo a eliminare tutte le immagini di questa povera bianca Catello certamente dimostra quanto lei avesse avuto in realtà successo nel promuoversi era veramente famosa e visibile ovunque e quindi in un certo senso aveva avuto successo come donna anticonvenzionale e intraprendente una donna veramente da ammirare di lei nel rinascimento grazie grazie mille molto interessante interessante che questo dipinto si trovi a Dallas eh sì perché probabilmente ha finito nel mercato nelle botteghe secondarie poi è stato preso da qualcuno in qualche auction questa paura bianca che tra l'altro si vede proprio che è veneziana devo dire la visione mia l'hanno fatta l'ha fatta proprio bene una bella allora vediamo un po' c'era una domanda di Barbara lascio la parola Barbara così te la fa direttamente lei mi pare fosse su uno dei primi ritratti ciao Evelyn ciao allora è sul primo quello dello stemma con l'alloro sì torniamo indietro cioè sì deve essere sì deve essere guarda tra primo secondo mi ricordo ecco era quello era troppo piccolo aspetta ecco no no ma va bene andava bene anche quello perché la mia curiosità era quel cerchio rosso è un timbro è che infatti ho detto non so se è un timbro di una collezionista oppure un un timbro proprio loro magari dello stemma come chiudevano con la cera l'acca non so non ho idea non riuscivo a capire no purtroppo avevano la brutta abitudine beh tra l'altro hai sentito cosa ho raccontato che l'hanno anche tagliato il dipinto cioè è infatti poi tra l'altro sia questo che quello di Isabella adesso gli hanno tolto le mani a tutti e due non ho capito il motivo la mia idea è che quando la gente senza scrupoli vendeva questi dipinti per fare più soldi li tagliava e siccome le mani di Leonardo erano sempre molto famose le hanno volute tagliare per vendere indipendentemente ho capito e poi altre cose obrobiose che facevano è mettere questi bellissimi sigilli di appartenenza o iscrizioni o cose varie nei dipinti che adesso noi veneriamo come delle rique sacre Patrizia invece chiedeva quanti anni si pensa avesse Ginevra in questa in questo dipinto allora deve essere stato deve aver avuto subito dopo il matrimonio tra i 16 e i 20 anni si vede comunque che è giovane no? aspetta dove è andata la nostra Ginevra poveretta tra l'altro dicono sempre che è molto pallida perché è un riferimento alla sua malattia al fatto che era infelice c'è una donna una studiosa che ha fatto un lavoro in mane perché su ogni lavoro di Leonardo c'è una bibliografia che è spaventosa questa donna ha preso il motto di Leonardo ha creato tutta una serie di frasi 50 frasi dall'acronimo e secondo lei ha agitato luce su degli aspetti della vita di Ginevra cioè ha collegato eventi della sua vita a questo motto insomma e tra le cose che lei ha messo in luce e che ha sottolineato diceva che Ginevra proprio odiava questo marito e in molti di questi queste frasi erano diceva sono vittima di quel lupo malefico e sono prigioniera insomma tutti i riferimenti al fatto che lei sentiva soffocata in questa relazione ovviamente che non era stata voluta ma era stata imposta dal fratello e quindi penso che molte donne avessero questa sensazione all'epoca penso proprio di sì molto triste che non ci siano non ci siano più lettere o scritti che citavi prima no sì è straordinario ma non solo quello ci sono addirittura poi nel 500 siamo più fortunati e qualche persona infatti l'altra idea era di farvi di parlarvi di donne famose che avevano scritto poesie che sono sopravvissute e mi sto leggendo i loro libri eccetera però di quelle non ci sono le immagini purtroppo le donne più avanti riescono a pubblicare qualche opera lo fanno soprattutto perché hanno un uomo che le permette di farlo perché devono sempre chiedere il permesso ai mariti queste donne non possono né dipingere né scrivere né tantomeno fare niente se non hanno il permesso del marito o del padre e infatti l'unica e la prima che riuscì ad agire liberamente fu Artemisia Gentileschi che è una delle poche fortunate un'altra storia da raccontare in un altro episodio certo allora vediamo se ci sono altre domande c'è troppo da dire su Artemisia in pochi minuti allora non ci sono altre domande anche perché è stata una presentazione penso forse Barbara forse Barbara vuole dirci qualcosa no se non ci sono altre domande posso chiedere una cosa allora ho visto che in tre diversi dipinti c'era rappresentato un animale nella dama con l'ermellino l'ermellino poi c'era un cane con in una aspetta un cane allora un cane era nel dipinto con la coppia l'uomo e la donna e poi anche visto anche nel ritratto di Lorenzo Costa di Isabella esatto c'è un cane ma è un particolare il fatto che ci possa essere il cane in questi dipinti oppure è un caso ecco è un caso no non è un caso una bella domanda nel senso che mi fa dire una cosa interessante allora per Isabella ad est sappiamo che lei tra le varie sessioni era sessionata anche con i cani quindi quello era probabilmente il suo cane si è fatta ritrarre molti anche i nobili uomini amavano raffigurarsi con i propri animali le personaggi influenti avevano falconi cani soprattutto cani da caccia sono spesso spesso compaiono nei dipinti perché sono un segno di un sono parte della famiglia già erano considerati così però il cane soprattutto in riferimento alle donne e soprattutto in riferimento al ritratto della coppia è un simbolo di fedeltà coniugale perché la donna è come il cagnolino del marito il cane va al padrone come la donna va al marito quindi è un simbolo della fedeltà tra l'altro vorrei sottolineare perché c'era questa ossessione con la fedeltà della donna perché nel momento in cui la donna tradiva il marito soprattutto in famiglie influenti e si veniva a sapere veniva macchiata la reputazione dell'intera famiglia cioè era proprio uno scandalo numero uno l'uomo poteva permettersi relazioni adulterine soprattutto come nel caso di Ginevra quando queste donne non concepivano e loro avevano bisogno di eredi questi potevano avere bambini da altri per esempio Cecilia Gallerani ha dato un bambino al duca di Milano e se il duca di Milano non avesse avuto eredi maschi dalla moglie ufficiale avrebbe potuto adottare quel bambino perché bastava che il padre fosse uno dei genitori il genitore più importante quello che dava il nome solo che c'erano tanti figli come li chiamavano bastardi o illegittimi però la donna non poteva tradire perché nel momento come ho spiegato prima la donna era un possedimento molto importante della famiglia proprio un investimento quasi e quindi nel momento in cui lei faceva qualcosa inappropriato si ripercuoteva sui suoi figli perché poi non erano sicuri se lei aveva concepito dal marito o dall'amante quindi era molto grave se un figlio di un amante di lei fosse entrato nel lineage della famiglia del marito c'era questo questo orrore tremendo la donna non poteva assolutamente portare un figlio esterno mentre l'uomo poteva tranquillamente farlo perché come ho spiegato l'uomo era no è pazzesco però se per rendere il tutto ancora più pazzesco queste cose sono continuate fino a molto recentemente giusto e in alcune parti del mondo continuano ancora quindi ce n'è di lavoro da fare per migliorare ce n'è tanto ce n'è tanto allora la storia importante la conosce per questo perché bisogna bravissima sono d'accordo è la punto di partenza allora Evelyn se vuoi darci magari qualche informazione sul prossimo episodio magari anche in inglese se vuoi about the next episode the next webinar that we're gonna do together you can say maybe a few words so the people that are still here maybe can have already an idea va bene allora lo dico sia in italiano che in inglese sì allora il prossimo episodio visto che oggi abbiamo parlato tanto di belle donne e begli abiti parleremo di abiti di moda e parlerò di quello che era la moda dell'epoca ma anche soprattutto di quelli che potevano trasgredire la moda perché anche la moda aveva le sue regole c'erano delle regole molto precise per esempio per farvi per darvi un'anticipazione interessante vedete che questa donna sulla sinistra c'ha un velo che le copre l'orecchio non so se notate perché è un simbolo della sua virtù coniugale perché la vergine si pensava fosse stata impregnata diciamo dallo spirito santo attraverso l'orecchio e quindi l'orecchio andava coperto quindi tutte queste cose c'è sempre un motivo e poi tutti quei capelli probabilmente non erano suoi già usavano extension o come chiedeva la bella Isabella si facevano diciamo dipingere in modo un po' simpatico poi quello di cui vorrei parlare è anche la differenza tra il ritratto ideale il ritratto e il costume vero ci sono anche costumi che sono esagerati costumi che probabilmente non esistevano neanche però parleremo finiremo con la corte di Luigi quattordicesimo che sicuramente era dove la moda come la conosciamo noi è nata la moda global ok lo di cui in inglese so next our next episode is about fashion and how fashion influenced the life of people in Renaissance and the Baroque because there was a strict code about fashion and I'm of course talking about upper class people unfortunately those are the only people for who we know something so they were required to wear some kind of things and there were actually sumptuary laws they were admitted at that time so there were laws that would tell people what not to wear and there were a lot of people that were transgressing those laws and those people were sometimes powerful or sometimes disrespectful like venetian courtesans we'll be talking a little bit about those women too tra l'altro oggi volevo parlare anche di una cortigiana nella mia talk ma non ci sono riuscita per motivi di tempo ma è molto pianizziamo molto interessante perché ho trovato un libro che di una donna che parla anche che dà un'opinione su su queste cortigiane e dà la colpa agli uomini quindi è molto femminista molto interessante allora aspettate che forse c'è una domanda allora quindi grazie mille di nuovo per per questa bellissima presentazione vogliamo magari anticipare che molto presto provvederemo a pubblicare questi questi interventi così magari possiamo potete rivederli potete ristudiarli e ricordiamo tutti che nei prossimi giorni manderemo delle piccole raccomandazioni su libri testi e e tanto altro che ci ha mandato gentilmente Evelyn e quindi troverete tutto e allegando anche questa presentazione così potete rivedere anche le immagini e appunto vi ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà il 10 giugno sempre giovedì sera dalle 6 alle 7 dal titolo fashion and transgression e ci ha già dato dei piccoli delle piccole informazioni Evelyn e vi ringraziamo tantissimo noi ringraziamo tantissimo Evelyn per la sua gentilezza e per le sue bellissime presentazioni e ci vediamo alla prossima vi volevo ricordare anche che il domenica domenica 6 giugno quindi prima dell'evento di Evelyn avremo un piccolo evento una conversazione con un artista e parleremo di pirografia un'arte poco conosciuta parleremo di questo artista italiano che espone anche le sue esporrà le sue opere anche qui a New York in una gallery qui a New York quindi avremo una piccola conversazione con lui ci parlerà di pirografia ci dirà che cos'è la pirografia ci farà vedere come funziona e sarà sicuramente interessante questo sarà appunto il domenica domenica dalle 2 alle 3 riceverete le informazioni e speriamo di vedervi numerosi anche per questo appuntamento di arte ma non arte rinascimentale questa volta grazie a tutti e sì una break una pausa tra l'arte rinascimentale ok allora grazie mille grazie mille a tutti grazie mille ancora a te Evelyn grazie Barbara per le domande e ci vediamo presto un grande abbraccio virtuale a tutti buona cena e buona notte ovunque voi siate buona notte in Italia grazie ciao ciao ciao